Lo so che ve lo siete sentite dire, quindi lo dirò io, perché voi non ne avete neanche il coraggio. Quando una persona, un uomo, vi dice non sono sicuro di essere pronto per una relazione, ragazze vi sta dicendo chiaro e tondo che non vuole una relazione con voi, anzi che probabilmente non vuole una relazione in assoluto, ma sicuramente non vuole una relazione con voi. Ve lo sta urlando in faccia, cioè non c'è la possibilità di confondersi. Quando una persona vi dice non so se sono pronta per una relazione, vi sta dicendo non voglio una relazione con te e non ci sono possibilità che io possa volerlo. Davvero? Cioè vi va di buttarvi in questa situazione? No, perché è un suicidio praticamente. Il punto è questo. Il punto è che le vostre orecchie non sentono non so se sono pronto per una relazione, non mi sento pronto per una relazione. A voi non arriva questo, a voi arriva forse non ci conosciamo ancora abbastanza per mettere su famiglia, è questo quello che sentite, ma non è quello che l'uomo sta dicendo. L'uomo non vi sta dicendo non ci conosciamo ancora abbastanza e allora ci sta, conosciamoci meglio. Alla fine ci frequentiamo soltanto da undici anni, ma frequentiamoci un pochino di più. Come devo fare con voi? Che dopo anni frequentate degli uomini che sono ancora confusi. Ma io come ve lo devo spiegare? Mi fate impazzire. Voi mi manderete alla neuro. Non vi sta dicendo questo. Vi sta dicendo non voglio una relazione. E ragazze, cioè, la differenza fra volere una relazione e non volere una relazione è tanta. Cioè, non è un cambiamento che tu fai così che dici, beh sì, dai, alla fine probabilmente la voglio una relazione. Non funziona così. C'è un processo di crescita, c'è un processo di maturazione che alcune persone fanno prima, altre persone fanno dopo, altre persone, molti uomini, non faranno mai. Adesso non mi chiedete ma perché hanno relazioni? Perché quelle sono relazioni? Non prendete due persone che si frequenteggiano, magari anche con dei vincoli contrattuali, come una relazione seria. Non prendete due persone che stanno insieme come una relazione seria. Perché altrimenti va bene chiunque, va bene anche quel disagiato da cui siete scappate sei mesi fa. Allora, riprendete il disagiato e anche voi avete una relazione. Stiamo parlando di qualcosa diverso. Di diverso in che senso? Nel senso che il passaggio fra mi voglio divertire nella vita e voglio, mi sento pronto per una relazione seria, è un qualcosa che richiede maturazione. E non è la vostra volontà, non è il vostro amore che convincerà quell'uomo a volere una relazione. Quell'uomo deciderà di avere una relazione, se lo deciderà, attraverso una propria maturazione personale. Che non c'entra nulla con voi e non è contro di voi, ma perché è qualcosa di personale. Voi siete arrivate al punto di volere una relazione, nonostante le vostre esperienze precedenti. Molto spesso non grazie a quelle esperienze, ma nonostante quelle esperienze, perché è una vostra maturazione personale. Non potete pretendere di far maturare le persone. Nessuno può far maturare nessuno. Ognuno matura per sé. Quindi, se un uomo vi dice Non sono pronto per una relazione, o probabilmente non sono pronto per una relazione, voi cosa dovete fare? Scappare via lontano. Bravissime, siete il mio orgoglio. 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 Grazie.